Che tempo che fa Littizetto, show su Filippa e Bossari, stoccata a Cecilia Che tempo che fa Littizetto, show su Filippa e Bossari, stoccata a Cecilia Rodriguez. Luciana Littizetto show, nellultimo suo irriverente intervento a Che tempo che fa, la comica non poteva perdere l'occasione di dirottare la sua simpatia e ironia anche su Filippa Lagerbach, presente in studio, e Daniele Bossari, dopo che lo scorso lunedì la svedese ha ricevuto la proposta di matrimonio in mondo visione al grande fratello Vip. Tra resate sguaiate, addirittura in studio una signora non è riuscita a trattenersi, provocando l'intervento di Fazio, un po' di imbarazzo, quello di Filippa, e tanta simpatica impertinenza, Luciana ha dato vita a uno show esilarante, non risparmiando nemmeno una sarcastica stoccata a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Andiamo a scoprire tutto. Littizetto, meno male che c'è Filippa. Cecilia? Ma chi se ne frega, abbiamo già visto tutto. Classico si parietto a Che tempo che fa. La Littizetto si siede sull'acquario di Fazio e inizia lo show. Stavolta però gran parte dell'intervento è rivolto a un volto noto del programma di Rai 1, Filippa Lagerbach, quelle carogne degli autori del grande fratello Vip, per far venire le fregole al suo fidanzato, l'hanno messo per una settimana con Aida e spica che non è certo una monaca. Luciana racconta con la sua tagliente ironia la vicenda che ha portato Bossari a proporre il matrimonio alla compagna in mondo visione. La svedese è in studio e con leggero imbarazzo sorrida alle parole della comica. Accenna anche un sussurrato un sacco di testimoni, a proposito dei milioni di spettatori che hanno seguito la proposta di nozze in diretta. La Littizetto non risparmia neppure una piccola sferzata alla Rodriguez e Ignazio. Ma devo dire che anche Filippa l'ho vista molto motivata e meno male, anche perché poi quando è entrata Cecilia e ma chi se ne frega abbiamo già visto tutto, taglia corto. Che tempo che fa, le risate del pubblico provano l'intervento di Fazio. La Littizetto è stata talmente travolgente che alcune risate sguagliate in studio non si sono arrestate, tanto che Fazio è intervenuto in prima persona, cosa ride lei? Ha una spettatrice, ndr. Si calma, altrimenti Luciana pensa di dire cose intelligenti. Infine la comica ha chiesto a Filippa la verità sull'anello ricevuto al GF VIP, l'anello è tuo di Canale 5, credo di sì, mio e poteva essere anche di gomma, ma quello che conta è il simbolo. A questo punto interviene ancora Fazio ti salverò io a Filippa. Grazie. Lo show è servito. Grazie. 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 Grazie per la visione!